Cominciamo col dire come sta andando questa esperienza a Clusone. Grazie mille al Comitato di Clusone che ha tanta voglia di vedere i nostri bambini durante questo mese. È un bellissimo soggiorno, è anche bel tempo che ha incontrato noi in questo mese, ottobre. Ringraziamo tanto il nostro Presidente Domenico Giudici, che durante già da tanto tempo conosce come organizzare, come proseguire questo mese con tante attività, con tante cose belle per far vedere, per fare con i nostri bambini. E soprattutto il progetto con i bambini da Kamenka, che è già organizzato per la seconda volta, è molto importante per bambini dall'Istituto, bambini che hanno un po' le cose particolari. Grazie mille per tanta pazienza e per tanto rispetto che mostrano davanti a questi bambini, non solo il Comitato, anche a scuola, anche le famiglie, anche tantissimi volontariati che arrivano. Grazie, grazie mille. E speriamo che questo esperimento, questa esperienza, avrà anche il futuro. Anna è l'altra interprete, vorrei che ci raccontassi come ha imparato l'italiano. Anch'io venivo da piccola come bambini a Trento, è fatto adesso quasi 22 anni che vengo qua in Italia. Quindi sei stata tra i primi bambini che sono venuti in Italia. Sì, sono i primi gruppi che sono venuti in Italia, sì sì, e adesso vengo come interprete. Cosa ricordi dell'esperienza da bambina, del primo impatto con l'Italia? È stato molto bello, mi è piaciuto, è rimasto solo bello i ricordi dell'Italia, mi piaceva tantissimo. Cibo, tutto, montagne, mi è piaciuto tutto, è stato bello. Mi piace tantissimo, mi piace tutto, è molto bello e molto interessante. Mi piace tantissimo, qui è molto bello e molto interessante. Che cosa ti piace soprattutto? Che cosa ti piace più, mi piace? Mi piace tantissimo, che puoi andare in piscina, puoi andare in montagna, puoi fare passaggiate. E come andare a scuola in Italia? Avete conosciuto anche degli altri bambini, degli altri ragazzi italiani? Andate a scuola insieme a loro, no? Che cosa ti piace soprattutto? Che cosa ti piace più in Italia? Mi piace le piscine. Anche lui ha detto che piace i montagni. Vediamo un braccialetto qua, un braccialetto, ti piace il calcio. Ti piace fútbol? Che ti piace per il bambino? Da. Ma che squadra tieni? За che squadra ti piace? Juventus e Talento. Ma giochi anche a calcio. E giochi anche a calcio? E giochi con i ragazzi italiani? E giochi con i ragazzi italiani? Da. Sei più bravo degli italiani? A tu играешь лучше, чем italiani дети? No. Mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, domenica, urocchi, fisca e matematica. Si che lei fa insegnante, maestra con domenico, e lei piace fare maestra. Fa il insegnante con domenico, fantastico. E mi piace molto, mi piace anche fare maestra. che stiamo in cacciaio e sempre guiamo in ufficio o in casa. Lei dice che piace frequentare i parchi, piace l'altalena, piace visitare diversi posti, essere come ospiti e fare attività anche nel posto dove siamo alloggiati. La terra è una vera, 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 è un'altra vera.